Musica I credo che l'empnevso è stato fatto dal Lambrou Kouto, che ha fatto l'effetto con la famiglia del nostro cuverta e non ti ha lasciato a perdere così, come capisci. E io, in questo gioco, ho fatto questo spazio, ho fatto un'asciato, perché avevamo il latte e non c'era l'ora. Grazie! Bravamo, cori. Bravamo, ho avuto un sima. Non ho capito. E' fuori! E' fuori! E' fuori il mio cunupi. E' fuori il cunupi. Il cunupi, vieni.